E va bene, senti, per favore, non vorremmo andare a fan c***o tutti, va bene? E mi vado per come posso. Ho detto 23-20, pazienza, acchettatemi, prendetemi a calci nel c***o, che non sono capace. Chiedo e nessuno parla. No, 23-30, mi***o. Che testa di c***o di direttore. Guarda un po', lo chiedo, lei non lo trova, guarda il giornale, non lo vede. Lui sta lì imbambolato, l'altro non parla, ma che testa di sei che non lo dici. L'ho detto a lui e non vi gridare. Non vi permettete di entrare in studio mentre parlo. Andate a fan c***o e poi fatemi causa. Ma guarda un po', ma cosa credete? Che siete qui gratis. Lavorate, fatevi il c***o come ve lo faccio io. Ce l'avevo con lui imbambolato. Non rompere i c***o. La prossima volta, guarda, posso chiudere il giornale, ma vi sospendo uno che si permette di urlare qui dentro. Ho detto lui imbambolato, lei che non trova dentro di nessuno. Basta! Eh che c***o. Ma chi credete di essere? Sareste manco nati senza di me, ve lo dico io. Che scoop, ATG4 sono tutti figli suoi. Basta! Eh che c***o. Emilio è incavolato nero, ma non perde la testa. Si ricorda perfettamente chi è. Ma io sono un buffone, non sono un direttore. Che testa di c***o di direttore. Oh, se lo dici tu... Basta!